Si chiamano miniera Eco Days, le giornate organizzate dall'associazione Valdarno Bike Road insieme ad Enel, Comune, Confcommercio e Banca del Valdarno nell'area mineraria Enel di Santa Barbara a Cavriglia. Percorsi su strade sterrate chiuse al traffico per biciclette e podismo, un modo insomma per far ripartire il cosiddetto turismo eco-friendly. Crediamo che la combinazione tra valorizzazione dell'area, del territorio, l'enogastronomia, la qualità della vita, lo sport, l'ambiente, la natura e l'arte, perché questo luogo diventerà peraltro un parco d'arte perché è in procinto di iniziare il 30 di maggio il secondo simposio internazionale di scultura monumentale, sia la miscela vincente per attrarre sul nostro territorio persone, risorse e quindi aumentare il benessere della comunità ma soprattutto la qualità della vita dei nostri concittadini. Direi che il nostro territorio è adattissimo e la cosa veramente importante è la comunione di interessi e anche di intenti tra le istituzioni, la nostra associazione che chiaramente ha come primo obiettivo la salvaguardia del business dei nostri associati e delle nuove tendenze che ormai si sono affermate in tutto il mondo. Questa è un'iniziativa che ha avuto grande successo proprio perché ha attirato intere famiglie per la possibilità di fare 30 km un percorso con le bici, mountain bike e bike, che è bel 10 km di percorso pedonale che poteva essere fatto a corsa o passeggiando, quindi è stato proprio un invito colto da tantissime famiglie nel venire qua a trascorrere la giornata con noi. Il prossimo appuntamento domenica 13 giugno. È importante anche dire che la prenotazione a questi tipi di eventi avviene esclusivamente tramite app e quindi uno può controllare direttamente tramite l'applicazione i percorsi e tutto. Poi c'è un contatto diretto che scarica l'applicazione che è l'applicazione Valdano Bike Road sia su piattaforma Android sia su piattaforma Apple che è completamente gratuita.